Eccoci per l'ultimo video della serata, poi se ne riparla domani. Ciao bella a tutti da me. Cinque minuti di recupero, due sono già passati, stiamo parlando di Frosinone e Inter, una partita che sembrava indirizzarsi quasi totalmente in favore dell'Inter e invece il Frosinone zitto zitto è riuscito a rientrare in partita con un bel gol di Cassata e vi devo dire che il secondo tempo comunque mi è sembrato abbastanza lottato. Seguiamo insieme questi ultimi minuti anche se la connessione oggi mi ha fatto incazzare come una bestia e vediamo perché... Ecco, ha ripiato a Vesino. Vaffanculo ce l'ho contro il fantacalcio, cazzo! Non ce posso credere, ma io me le gufo da solo. Dai annullateglielo, non vi cambia un cazzo, tanto vincete uguale, annullateglielo per cortesia. L'ha ripiato a Vesino, me l'ha messo contro Timculo, me l'ha messo al culo! C'ha la puttana, boh preparatevi perché domani non posso farvi lo sfogo del fantacalcio, se ne riparla dopo la partita dell'Atalanta di domani sera. Non ce posso credere, mi rodo il culo, mi rodo, non me l'aspettavo. Fatto sta che l'Inter a sto punto se la porta a casa, il che significa tre punti importantissimi in ottica Champions League perché mantengono i quarti in classifica attualmente in Milan addirittura a meno cinque con sei giornate, a sei giornate dalla fine, no con sei giornate dalla fine, che cazzo sto a dire. Comunque bella azione di ripartenza, bel contropiede, sembrava fuori gioco. Mi sembrava fuori gioco, sembrava un po' più avanti quando ha ricevuto il passaggio. Mo, o è stato rapido a rient... A nulla, glielo, te prego. A nulla, glielo. Non dicono un cazzo, non gli annullano assolutamente un cazzo. Scusate ragazzi, però a me questo cazzo di fantacalcio, cioè me devo un cazzo a pure... No, no, gli hanno dato... Che palle, vabbè. Mi fate sapere voi che cosa ne pensate nei commenti a questo punto? Mi sono dimenticato di dire che passa in vantaggio l'Inter con Rajana in Golan, poi arriva il raddoppio, calcio di rigore, Icardi lascia il rigore a Perisic, pace è fatta, segna, trasforma, si abbracciano. Chi lo sa se Icardi la prossima stagione resterà all'Inter oppure se alla fine verrà ceduto. Non ve lo so dire sinceramente, Icardi ama l'Inter e magari se tutto è realmente rientrato potrebbe anche decidere di restare. Fatto sta che comunque a livello di gruppo, a livello di squadra, a livello di classifica per l'Inter questa è una vittoria veramente importantissima, non era facile portarsela a casa, lasciatemelo dire perché comunque andà a giocare là contro il Frosinone. Ah sì 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 è buona, è buona. È che è andato talmente tanto sul terzo col di Vesino, vaffanculo, è andato talmente tanto avanti che poi Vesino è stato rapido. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate nei commenti di questa partita, la ripiata Vesino, io l'ho piata in culo, mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto e domani sera c'ho due manzapata contro, preparatevi. L'arbitro sta per fischiare, voglio le vostre impressioni, a sto punto secondo me l'Inter 90% si qualificherà in Champions League, la lotta sarà serrata tra Milan, Lazio, Torino, ci metto in mezzo la Sampdoria, ci metto in mezzo la Roma, ci metto in mezzo mi nonna, Mizzì, a domani. domani. Sampdoria,